Tempo abbastanza stabile sulla nostra regione in questo fine settimana, nonostante arrivino delle correnti umide, soprattutto nella giornata di sabato. Al mattino di sabato infatti arriveranno in quota correnti umide da nord ovest, nei bassi strati un po' di aria umida dai quadranti meridionali, ma non saranno instabili, quindi avremo probabilmente un cielo in prevalenza nuvoloso, localmente forse anche coperto sulle zone orientali, dove non è del tutto esclusa qualche locale piovigine, soprattutto a ridosso delle prealpi, maggiore variabilità invece verso la costa, soprattutto a ovest. In giornata probabilmente ci saranno anche dei tratti in cui la nuvolosità sarà meno consistente, possibili locali banchi di nebbia notturni in pianura. Andrà un po' meglio domenica, condizioni di variabilità su pianura e costa, ancora possibili foschie, cielo in prevalenza poco nuvoloso sulla fascia alpina più interna della regione, in Carnia e nel Tarvisiano. Saranno ancora possibili dei locali foschie e dei banchi di nebbia sulla bassa pianura nelle ore notturne. Le temperature saranno più o meno stazionari e sui valori di questi ultimi giorni intorno ai 13-14 gradi le massime sulla costa, fra i 15 e i 17 gradi in pianura. L'inizio della prossima settimana vede un ulteriore aumento dello zero termico in quota, quindi in montagna avremo lunedì cielo in prevalenza poco nuvoloso, variabile su pianura e costa, un po' più di umidità martedì con un cielo in prevalenza nuvoloso su gran parte del territorio. Temperature in lieve aumento le massime, ma su valori sempre intorno alla media del periodo. Buon fine settimana a tutti!